Berlino e Parigi non ci stanno. È un coro di no quello che ha colto il piano di taglia al personale annunciato da EADES. Il colosso aerospaziale a cui fa capo Airbus è finito sotto il fuoco incrociato dei sindacati e dei azionisti Francia e Germania. Evitare i licenziamenti e riassorbire i lavoratori è la priorità per la prima, mentre la seconda parla della necessità di evitare le sproporzioni. Quello che sta accadendo qui semplicemente non è giusto, commenta un dipendente dell'impianto nei pressi di Monaco. Siamo inattivo e lavoriamo a pieno regime. In totale i posti tagliati saranno 5.800. Il fardello maggiore sarà sostenuto in Germania e in Francia, seguite da Gran Bretagna e Spagna. La ristrutturazione per gli analisti produrrà risparmi per 375 milioni di euro l'anno, ma ha anche, secondo i sindacati, un impatto negativo sulla competitività. Ecco perché pensiamo che i licenziamenti previsti siano sconvenienti e inaccettabili, non solo da una prospettiva personale, spiega il capo del Consiglio dei Lavoratori. Pensateci, il piano durerà tre anni, come possono lavorare bene gli operai con questa continua minaccia di licenziamento sulla testa? E Adès, il cui piano prevede la fusione delle divisioni difesa e spazio, ha chiuso i primi nove mesi del 2013 con risultati in crescita a 2,3 miliardi di euro. Ma per il numero uno Enders la direzione intrapresa è quella giusta. Di fronte a budget sempre più ristretti e concorrenza serrata, non si può aspettare di essere dentro la tempesta prima di cominciare a cambiare rotta.